Non sapete scegliere tra una partenza di gruppo e una partenza individuale? Vediamo insieme quali sono le differenze. Con una partenza di gruppo parterete dall'aeroporto di Roma o Milano e troverete l'accompagnatore già dall'aeroporto italiano e farete con lui il viaggio fino alla destinazione estera. Con una partenza individuale invece potrete partire dall'aeroporto che preferite, ogni domenica durante l'estate va bene, l'accompagnatore in quel caso si trova all'aeroporto di destinazione. Non fatevi ingannare dal nome individuale perché in realtà di individuale c'è solo il volo. Arrivati a destinazione infatti troverete l'accompagnatore ad attendervi, vi porterà a destinazione e lì avrete i compagni di classe, i compagni di stanza, i docenti, lo staff. Se farete le attività sarete con altri studenti accompagnati dal nostro staff. Quindi di individuale c'è solamente il volo.